Perché il carnevale peschiera? Perché è una tradizione che c'è dagli anni infiniti. Noi l'abbiamo ripreso, l'abbiamo migliorato e lo faremo sempre più bello, sempre più importante e perché i bambini si devono divertire. Come abbiamo visto ci sono i nostri bambini, le nostre bandi, i nostri adulti, tutte le generazioni che si divertono. Grazie! Il bello Cino! Carnevale di peschiera e il sogno diventa realtà. Cos'è per te il carnevale? Il carnevale è allegria ma anche promozione turistica per il lago di Gardner. Assolutamente. Grazie per la visione!